Ciao ragazzi, benvenuti sul canale YouTube di Benis, sono Paul Audi e in questo contenuto voglio farvi ascoltare questa Surkustom Order appena arrivata al negozio. Specifiche e finitura decise totalmente da Benis, abbiamo una chitarra incredibile con un maple top nella finitura copperhead, quilted, così matchata anche la paletta, tastiera in Rosswood indiano, palissandro indiano quindi con 24 tasti jumbo. Caratteristica principale di questa chitarra è la facilità di suonabilità su tutta la tastiera e questo incredibile accesso ai tasti più acuti e più alti che vi permette di riuscire a suonare con estrema facilità i bending più acuti. Pick up Aldridge in cover nickel, 5 posizioni con la possibilità anche di splittare e andiamo subito a sentire questa meraviglia con un'eccellenza italiana, una mezza barba M0, 100 watt di pura potenza e ci vediamo dopo per le considerazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.